buona giornata amici ben trovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è mercoledì 25 settembre 2024 abbiamo purtroppo delle brutte notizie oggi che vengono pubblicate dai giornali ci stiamo così anche noi immedesimando in qua a quanto è venuto ma ne parleremo tra breve intanto parliamo del santo del giorno e vediamo chi si festeggia sfogliando al manacco del giorno ecco la grafica è san cleofa cleofa discepolo di gesù è uno dei due di emmaus che riconobbero gesù risorto nel cammino verso questo villaggio non molto lontano da gerusalemme quanto ardeva il nostro cuore mentre il nostro compagno di viaggio spiegava le sacre scritture aveva detto cleofa con il suo compagno di viaggio alfeo i quali riconobbero gesù solo nel momento in cui a cena il loro compagno spezzò il pane e riconobbero che era gesù che era stato ucciso e crocifisso qualche giorno prima e poi risorto e quindi era il loro compagno di viaggio questo è san cleofa vediamo ora le previsioni del tempo ebbene cominciamo ad inoltrarci nell'autunno oggi sarà una giornata caratterizzata dalla variabilità con possibilità di qualche breve piovasco specie al mattino seguito poi da ampie aperture del cielo nel pomeriggio quindi il cielo il tempo va migliorando insomma verso il buono sulle coste i venti spereranno con una tensione media da sud est nell'interno invece da sud ovest le temperature 18 la minima 24 la massima il sole sorto alle 6 57 e tramonterà alle 19 01 e allora detto questo passiamo alla lettura dei giornali a partire da una notizia che non vorremmo mai apprendere la morte di un bambino di un ragazzino eccolo in questa grande fotografia pubblicata dalla prima pagina del resto del carlino muore a scuola aveva 14 anni si tratta di tommaso bisciari tradito dal cuore era in lista per un trapianto dal 2022 ebbene una grande tragedia si è verificata ieri all'istituto olivetti di fano quello in via nolfi un bambino intorno alle 9 e stava per iniziare la seconda ora di scuola uscito dal bagno è crollato improvvisamente nel corridoio della scuola i suoi compagni che erano lì vicino che stavano frequentando il laboratorio di informatica hanno udito un tonfo subito sono accorsi e hanno visto appunto tommaso esanime nel terreno subito convulsamente sono intervenuti soccorsi massaggio cardiaco defibrillatore purtroppo non c'è stato nulla da fare per rianimarlo ed è stato chiamato subito anche il 118 sono intervenuti in pochissimo tempo gli operatori dell'ambulanza anche loro hanno operato tutte le manovre per cercare di rianimare questo piccolo ragazzo che si stava facendo alla vita aveva terminato il ciclo delle scuole medie da poco e iniziava una nuova avventura per quanto riguarda le scuole superiori ebbene purtroppo la sua vita è stata spezzata nel fiore della adolescenza vediamo le notizie come vengono riportate all'interno o dai giornali questa mattina comunque dobbiamo dire la grande commozione che si è sprigionata da tutti i ragazzi che frequentano la scuola dell'olivetti gli insegnanti la preside e ieri non ci sono state tante parole perché poi è stata una vicenda che si è consumata all'interno di ciascuno che non sono state lasciate dichiarazioni dobbiamo dire nella preside negli insegnanti sono rimasti muti attorno a quei attoniti probabilmente attorno a questa grande grande vicenda tragedia scuola si sente male nel corridoio i professori tentano di rianimarlo tommaso muore a 14 anni è successo intorno alle 9 l'olivetti in pochi minuti è arrivato il 118 ma non c'è stato nulla da fare tommaso era figlio di una dipendente dell'amministrazione comunale la mamma la mamma è un'impiegata dell'ufficio cultura si trovava a pochissima distanza all'ufficio cultura di fano in via dei cupis via nolfi e proprio lì a 200 metri lo divetti è 200 metri di distanza quindi la mamma si è precipitata come si è precipitato il papà di tommaso luca bisciari che è un collaboratore della scuola marconi di pesaro ma ieri si trovava a fano perché le scuole ieri erano chiuse c'è a pesaro c'era la festa del santo patrono e quindi lui si trovava a fano si è precipitato subito insieme alla moglie a scuola e purtroppo purtroppo insomma hanno visto quello che è accaduto da due anni e mezzo era in lista a sant'orsola tommaso per il trapianto di cuore scoprimmo che aveva una malattia cardiaca congenita dichiarato il padre e dall'ospedale di bologna c'era stato detto di tenerci sempre pronti per un trapianto ma quella telefonata purtroppo non è mai arrivata non poteva fare sport ma stava bene insomma però insomma avevano visto anche i compagni e professori che aveva un aspetto un pochino così fragile un aspetto un pochino così che mostrava quello che aveva dentro il piccolo tommaso cordoglio cordoglio da tutti ha parlato ieri anche il parroco di san cristoforo la famiglia abita in via 27 agosto e pensate che tommaso si stava preparando per fare la cresima e quindi anche don mauro bagnesi ha pianto ha così espresso il suo dolore per quanto è avvenuto passiamo ad altre notizie anche se non è facile dopo dopo questa vediamo l'apertura su fano del resto del carlino vediamo che si parla di sport e si parla di sport perché lo sport è entrato nell'ultima seduta del consiglio comunale l'altra sera l'ha portato francesco panaroli consigliere comunale del movimento 5 stelle con una interpellanza caso un'interrogazione caso alma in consiglio chance per la società ma il comune si attivi ebbene ci sono due squadre che rappresentano fano nel mondo del calcio abbiamo visto c'è il l'arma juventus la società storica che è stata disconosciuta ormai dall'amministrazione comunale c'è il fano calcio ebbene il caso alma in consiglio è sostenuta appunto da francesco panaroni che oltre a essere un consigliere comunale è anche un tifoso storico di questa squadra di calcio ebbene francesco panaroni dopo le accuse di gestione dilettantistica prontamente rispedite al mittente dall'amministrazione comunale ha parlato della trattativa in corso tra la società e carmelo cogliandro carmelo carmelo cogliandro è l'ex direttore generale auspicando appunto un esito positivo l'alma in questo modo potrebbe tornare in mano fanese ha detto ha detto panaroni speriamo benissimo che c'è un altro presidente insomma guida che gestisce la società spero quindi che l'amministrazione comunale lavori insieme all'alma e al fano calcio perché le cose vadano in porto e poi c'è una è un avvenimento un evento che si terrà sabato prossimo alle 15 30 allo stadio mancini è l'intitolazione della curva della curva storia quella più gremita dai tifosi e a chi a bronco a bronco santini e bronco santini grande tifoso granata si ricorda un uomo che ha incarnato i valori di lealtà e passione per la squadra così vogliamo rendere omaggio al suo spirito ha dichiarato ha dichiarato dunque vediamo il sindaco sì il sindaco luca serfilippi e titolando la curva si ricorda un uomo che ha incarnato i valori di lealtà e passione per la nostra squadra così vogliamo rendere omaggio al suo spirito e mantenere vivo il suo ricordo ha detto serfilippi e poi serfilippi è intervenuto per quanto riguarda l'evoluzione della influenza della dengue che nonostante che siano fatte fatte tre disinfestazioni di tutto il territorio comunale l'ultima tra domenica e lunedì scorso ebbene la lotta continua perché insomma la zanzara è ancora presente e continua a mietere tra virgolette vittime cioè inocula ancora il virus della dengue ebbene sono 51 ormai i casi accertati mentre altrettanti sono in fase di valutazione una trentina una trentina sono stati chiamati dal centro di prevenzione di Fano per fare le dovute analisi e poi ci sono altri interventi ci sono altri interventi di carattere larvicida insomma si sistemano anche delle trappole per vedere un po' come si evolve la situazione delle zanzare se diminuiscono con il calo delle temperature se ancora persistono se si adattano ad un inverno che si prospetta piuttosto caldo rispetto al passato insomma la lotta continua e poi ieri in consiglio regionale c'è stata un dibattito molto molto intenso per quanto riguarda la sanità sono state discusse due interrogazioni una della capogruppo del movimento 5 stelle marta ruggeri e una delle consigliere regionale del partito democratico renato claudio minardi i quali hanno fatto presente all'assessore alla sanità salta martini di tutte le difficoltà che il sistema sanitario fanese ha dovuto affrontare nel corso dell'estate quando l'attività chirurgica è stata ridotta per la diminuzione delle sedute operatorie ebbene c'è un batti e ribatti le accuse della ruggeri e di minardi nei confronti di salta martini la ruggeri dice che salta martini ha risposto in maniera così un po' evasiva mentre nei particolari è entrato invece il direttore generale dell'aste numero 1 alberto carelli il quale ha enunciato tutte le sedute chirurgiche che sono state fatte nel 2024 a paragone del 2023 attività chirurgica sospesa a fano scontro in aula tra minardi e salta martini nessuna chiusura delle sale operatorie solo una rimodulazione ha detto ha detto carelli insomma quando non si chiude totalmente ma si cambiano le cose però insomma la sostanza non è che poi tampona la situazione che poi le carenze rimangono e chi deve essere sottoposto ad un'attività chirurgica deve aspettare a meno che non sia proprio urgente e allora ovviamente l'assistenza viene effettuata subito ovviamente e allora ancora problemi per quanto riguarda la consegna delle raccomandate nella nostra città c'è stata già una denuncia nei giorni scorsi da parte di un cittadino che aveva dovuto andare e che era dovuto andare era dovuto andare in un distributore di benzina per così riprendere la sua raccomandata quando è arrivato il postino a casa sua probabilmente non c'era e quindi ha avuto il biglietto di recarsi in tal posto ma questo posto non era né un ufficio né una sede della poste ma era un distributore di benzina e devo dire anche che non è stato facile trovarlo ebbene oggi sulla stampa si ripete un nuovo caso raccomandate pazze ho girato due città la disavventura di una pensionata alla fine la lettera era dal benzinaio così come abbiamo detto e poi vediamo invece di un'iniziativa che riguarda l'amministrazione comunale e la memoteca montanari mamma lingua il mini festival per esprimere le parole dell'altro ebbene parte domani alla mediateca montanari la rassegna di letture e laboratori multietnici sono 13 appuntamenti alla scoperta delle tradizioni e della cultura dei nostri concittadini immigrati attraverso le parole si tratta di una mostra bibliografica di libri per bambini in 14 lingue straniere il sistema bibliotecario di Fano aderisce così al progetto mamma lingua con un mini festival che coinvolgerà la mediateca e altre sedi cittadine da domani a venerdì 4 ottobre e poi vediamo invece che sabato prossimo alle ore dovrebbero essere le ore 18 e 30 verrà inaugurata a Palazzo Bracci Pagani una mostra di tutti gli elaborati grafici che sono pervenuti al concorso di Carton Sea 2024 Humor e lacrime il premio Carton Sea nel ricordo di Oscardo Severi bene l'edizione di quest'anno e la quattordicesima che si svolge ebbene è stata improntata dal ricordo di Oscardo Severi Oscardo Severi è morto poco prima che si pronunciassero i vincitori di questo suo concorso concorso che aveva ideato individuando la satira e l'umorismo quale veicolo per promuovere quelle azioni necessarie per salvaguardare la sicurezza del lavoro e la sicurezza dell'ambiente sono questi i due temi che si prefigge appunto il concorso Carton Sea Ambiente e Lavoro quest'anno l'attenzione era concentrata soprattutto sul lavoro hanno partecipato 120 artisti che hanno partecipato con 226 opere giunte da tutta Italia è una sezione speciale è stata dedicata al ricordo di Oscardo Severi ebbene vedete qui una sua vignetta Oscardo Severi che esce fuori come un giullare scherzoso dal cubo di Carton Sea ebbene è un ricordo affettuoso che hanno fatto i grafici che lo hanno conosciuto in tutti questi anni appunto per la sua attività e parliamo anche di una santa locale che si festeggia in modo particolare a Mondolfo è Santa Giustina Santa Giustina si fa in quattro la festa andrà fino a domenica sono gli appuntamenti che partiranno domani si comincia con la fiera a mercato poi i momenti religiosi i food truck e la musica festeggiamenti in onore di questa santa molto molto venerata appunto a Mondolfo tante sono le giornate di eventi organizzate dalla amministrazione comunale di Mondolfo scuole edifici chiusi domani quando piazza Burroni, via Cavour e via Mazzini saranno popolate dalle nove a mezzanotte dalle bancarelle della tradizionale fiera a mercato ma ovviamente non è solo il mercato che così caratterizza Santa Giustina sono tante anche celebrazioni religiose che ricordano questa santa vediamo ancora la pagina di Urbino Itis affollata per la cerimonia di inizio dell'anno scolastico presenti la direttrice generale dell'ufficio scolastico regionale Donatella D'Amico e Alessandra Belloni che è dirigente dell'ambito territoriale 6 di Pesaro Urbino la dirigente appunto di questo ambito territoriale e poi e poi vediamo invece un'iniziativa originale l'Olimpiade del Muratore Vince Lucciarini ebbene questa è un'iniziativa che si svolge a Ferminiano essere muratore vuol dire avere le mani in pasta le mani nel cemento però non nella pasta di grano è un mestiere difficile, un mestiere duro un mestiere che lotta contro il caldo contro il freddo d'inverno è un mestiere che necessita di una certa sapienza perché costruire case insomma vuol dire avere una conoscenza di carattere concreto voglio dire di carattere non tanto ideologico ma quanto quanto fattivo per realizzare nel migliore dei modi le nuove case ebbene oltre 100 artigiani del mattone hanno partecipato a questa iniziativa che è stata organizzata dalla ditta Giusto Gostoli un grande successo ha vinto Corrado Lucciarini che ha primeggiato su Gilberto Ruta medaglia d'argento e su Livio Iossub Bronzo ai tre artigiani sono andate la medaglia ma anche una speciale cazzuola del colore del metallo d'oro ossia una cazzuola d'oro e poi d'argento a ruta e bronzo a Iossub per evidenziare il loro valore la loro perizia di carattere tecnico vediamo ora due notizie per quanto riguarda il Corriere Adriatico che anche questo giornale riporta con grande evidenza quanto è avvenuto ieri all'Olivetti sciocca scuola muore a 14 anni si accascia tradito dal suo cuore e poi ancora tanti articoli lui voleva vivere come gli altri certo era un bambino che voleva sentirsi al pari degli altri dal papà il nastro e le rose nere il ricordo di Don Mauro Bagnesi che a giorni lo avrebbe cresimato un dolore che raggela l'intera comunità ebbene sono tanti i ricordi di questo bambino e poi ne parleremo ancora per ricordarlo nel migliore dei modi vediamo la pagina di Fano Santa Croce e il dibattito in consiglio regionale di ieri Santa Croce l'opposizione va all'attacco l'ast sale operatorie niente chiusure e la riposta il batti e ribatti che c'è stato ieri tra Marta Ruggeri Minardi e Carelli per quanto riguarda l'attività chirurgica dell'ospedale vediamo anche come a Fano si rinforza il gemellaggio con Rastat sono presenti una quarantina di ospiti che giungono dalla città tedesca nella città di Fano un gruppo della città gemellata in questi giorni è in visita del territorio ed è stato accolto l'altro giorno dall'assessore Loretta Manocchi la vice sindaco che è delegata ai gemellaggi e da Lucia Tarsi che è l'assessore ai servizi sociali a Isola del Piano premiato un lavoro di lunghi anni il nostro modello è la strada giusta parla così giro l'omonia la consegna dell'European Organic Awards per la migliore PMI di agricoltura biologica piccola media industria di agricoltura biologica è nato proprio a Isola del Piano questo modo di concepire l'agricoltura più naturale più spontaneo più vero più salutare dobbiamo dire tocca alle tante felici anime della Giro Lomoni l'European Organic Awards il prestigioso premio assegnato l'altro ieri a Bruxelles eleggendo la cooperativa migliore azienda europea di trasformazione di alimenti bio insomma veramente un riconoscimento prestigioso giriamo ancora la pagina e siamo nella Val Cesano dove vediamo il sindaco Barbieri all'interno della sala della sesta ex sesta circoscrizione di Fano recuperata ceduta da Fano non senza controversie perché insomma Fano ha tentato di mantenere almeno questa questa aula un presidio a Marotta però insomma il sindaco Barbieri l'ha ristrutturata e ora questa sala sarà messa a disposizione della cittadinanza vediamo anche la pagina di Senigallia eccola qua bebi teppisti scatenati assalti ai garage blizze al market identificati cinque minorenni e dobbiamo dire che da un po' di giorni i minorenni di Senigallia si stanno veramente scatenando perché dopo il raid di cui abbiamo riferito nei giorni scorsi al centro commerciale ebbene a Montignano tre giovani tentano di rubare nei box auto tre giovanissimi e in azione si sono introdotti in un garage hanno tentato di fare lo stesso in altri i residenti hanno subito chiamato i carabinieri per informarli dell'occcaduto molti giovani forse minorenni stando alle descrizioni di chi li ha notati sono stati poi vagliati e quindi hanno cercato di individuare gli autori di queste azioni insomma che non depongono per la tranquillità della vita sociale appunto nella cittadina adriatica e con questa notizia noi terminiamo la nostra rassegna stampa dandovi appuntamento alle 7 di domani e per le notizie del giorno alle ore 20.30 di questa sera nel Tg Occhio alla Notizia di Fano TV grazie per l'ascolto e a risentirci a a a Grazie a tutti.